Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo inizio di una nuova serie, signori. Ebbene sì, visto che la serie con la Master League della Roma vi sta piacendo e mi date molti consigli, voglio fare un nuovo esperimento, signori. Inizieremo una nuova Master League che uscirà due volte a settimana, il martedì e il sabato, su PS4, signori, ovvero sull'evoluzione, diciamo, di Spro 2. Siamo su PS2 e, non lo so, signori, è un esperimento che andrà avanti magari per 4 episodi e fatemi sapere a voi se l'esperimento vi può piacere. Inizieremo una nuova Master League, signori. Allora, io ho fatto già delle modifiche al gioco, ovvero, inizieremo una nuova partita in casa, perfetto. Le partite dureranno 5 minuti, nome dei gironi AD, salvataggio automatico sì, seleziona divisa sì. E intanto partiamo con 3 stelle, signori, che già mi sembra, ho fatto un po' di prove e già mi sembra abbastanza complicato con 3 stelle. Partiamo. Questa è la prima cosa che andremo a sistemare. Noi possiamo o giocare con i giocatori della modalità campionato Master, ovvero i Vale e i Valeri, Castello, Miranda e compagnia bella. Giocatori della modalità partita, ovvero giocatori attualmente delle squadre che ci sono salvate, o che hanno una squadra originale. Noi andremo questa volta, per diversificare rispetto all'altra serie che stiamo facendo sulla Roma, a utilizzare i giocatori della modalità partita. Quindi utilizzeremo una squadra con i giocatori reali, signori. Quindi andremo a fare una Master League, un campionato, cercando di andare prendendo la squadra e puntellando proprio su quella squadra con quei giocatori. Senza andare a dover stravolgere per forza tutta quanta la formazione per cambiare tutti quanti i giocatori. Però qual è la particolare, signori? Che prenderemo ovviamente una squadra molto bassa, una squadra scarsa di qualità. Io, altra modifica, ho cambiato i nomi a tutte le squadre, signori. Quindi già solo per questo mi dovete lasciare un mi piace, signori. Per la fatica che ci è voluta per andare a mettere tutti i nomi giusti di tutte le squadre, mi sono rotto tre quarti di voi sapete cosa. Ho cambiato tutti quanti i nomi, sperando che siano tutti quanti giusti. Ci sono le squadre inglesi, squadre francesi, squadre tedesche, a cui ho dovuto andare a cambiare tutti quanti i nomi. Perché poi, vedete, anche queste sono quelle tedesche, ho dovuto cambiare. Ora non ho avuto il tempo di cambiare i nomi allistati e non ho avuto il tempo di vedere effettivamente le divise, le casacche delle squadre, perché mi ero rotto cinque quinti di quello che voi ben avete capito. E anche le olandesi, no, le olandesi c'erano, le spagnole c'erano, il resto del mondo ho dovuto un attimino anche lì cambiare le situazioni. Comunque, detto questo, signori, noi partiremo con una squadra italiana. Allora, in Italia c'erano il Milan, la Roma, l'Atalanta, il Bologna, il Brescia, la Juventus, l'Inter, la Fiorentina, il Chievo, il Cagliari, la Lazio, Lecce, Livorno, Messina, Palermo, Udinese, Siena, Sampdoria, Regina e Parla. Allora, da siciliano avrei voluto farla o col Palermo o col Messina, però per non far dispetto a nessuno andremo a prendere un'altra squadra che non c'entra assolutamente nulla, ma andremo a prendere una delle più scarse, ovvero la scelta si è basata su Livorno, Lecce e Regina, signori. Queste sono le tre squadre più scarse del gioco, almeno, secondo una stima che ho fatto io in maniera molto veloce, in maniera molto veloce anche l'Atalanta non è che sia fortissima, però anche il Brescia diciamo che non scherza, ma il Brescia rispetto al Livorno mi sembra un pochino più forte. E tra le tre, signori, penso che quella a me sapeggio sia il Livorno. La Regina, secondo me, un pochino se la cavicchia, il Lecce se la cavicchia, il Livorno, signori, andremo a prendere il Livorno. Della Roma ci trasferiamo in Toscana, la andiamo a prendere, la andiamo a mettere lì, bene, bene, bene. Allora, lui già mi ha sparato tutto così, subito, senza poter dare decisioni a qualcuna. Allora, partiamo con le squadre del mio campionato in seconda divisione, non so che squadre siano, però va bene, perché le bandine non riconosco. Allora, possiamo andare in Lega A, in cui abbiamo Basic Stars, Real Sociedad, Manchester United, Chelsea, Chievo, Anderlecht, Bocum, Porto, Olimpiakos, Parma, Braga, Villareal, Panatinaikos, Real Zaragoza, Arsenal o Valencia. Oppure Lega B, Sporting Lisbona, Fulham, Lazio, Liverpool, Galatasaray, Kiev, Bolton, Boca Juniors, Celtic, Juventus, Manchester City, Blackburn, Newcastle, Bruges, Aston Villa, Bologna. Lega C con Dortmund, Stuttgart, Southampton, PSG, Roma, Tottenham, Betis, Rangers, Werder Bremen, Brescia, Espagnol, Benfica, Acapatene, Roda, Real Madrid e Ertabellino. Lega 5 abbiamo Sampdoria, Kaiserslautern, Larkov, Mosca, Middlesbrug, Inter, Fennel, Monaco, Birmingham, Cheltenham, Lyon, Odinese, Deportivo, Nantes, Milan, Ajax, Oliver Gosen. Signori, allora, delle 4, visti in maniera molto così veloce, forse quelle più approdabili potrebbero essere l'A, perché comunque nella B c'è Liverpool, c'è il Manchester City, c'è la Juventus. No, sono tutte praticamente equilibrate, qua c'è il Real Madrid, c'è il Dortmund, c'è il Werder Bremen e qui invece c'è il Milan, che è quel Milan di quegli anni lì, è un Milan bello. Eh, vai signori, io per non sapere leggere e scrivere, facciamolo decidere al destino, signori, tanto dove dobbiamo vincere qualsiasi cosa, lascerò il pulsante fra 3, 2, 1, 0. Lega B, signori, proprio quella peggiore, forse però va bene. È capitata questa, signori, ma noi siamo pronti a vincere tutto, partiamo senza paura e senza timore. La Master League Sì, così mi piace, la Master League, come lo dici te, non lo dice nessuno. Ok, allora, noi oggi ovviamente ci andremo a fare anche la prima partita, dobbiamo leggere un po' di informazioni perché ci sono anche i campionati intermedi, signori, il mercato è a scaglioni. Allora, dati di gioco non ce ne frega assolutamente nulla, sì, interessantissimo. Allora, condizioni trattative, fine del gioco, se i due punti sono negativi, quindi finirà il gioco, e se termina la stagione con meno di 16 giocatori. Ok. Condizioni di promozione di recessioni, ok, le promozioni delle squadre della D2 sono promosse in D1, le peggiori squadre della D2, della D1, sono recessi in D2. Ok. Classifica UEFA va bene, la UEFA va bene, verrà aggiornata, bla bla bla, i punti sono calcolati per un massimo di 8 anni, quindi se non capisco male abbiamo 8 anni di tempo per riuscire a vincere tutto quello che si può vincere. E poi ci sono i due campionati king, diciamo. Il campionato UEFA, questo torneo mondiale per club, porta tutte le migliori squadre delle quattro leghe, qualificarsi per questa competizione è un obiettivo principale per ogni squadra. E le vettorie di questo è un caso proprio che tu sei il miglior al mondo. I vinciti del gruppo di qualificazione avanzano al turno successivo, le prime due squadre del primo turno avanzano al secondo turno. Come qualificarsi? Lega D1, dalla terza alla seconda posizione, si qualificano al turno preliminare. Lega D1, prima e seconda posizione, sono qualificate direttamente al primo turno. E poi abbiamo invece la Coppa UEFA Master, la più ampia competizione dopo il campionato UEFA. 16 ingribbi di squadre, comprese quella che ha vinto l'ultima edizione della Coppa di Lega, quella che si sono qualificate, con un buon piazzone del campionato UEFA. Si darà una battaglia e non si stia mai eliminazione. Come qualificarsi? Coppa D1, campioni in ogni caso se la squadra si qualifica attraverso il campionato UEFA. Lega l'elezione verrà acquisita attraverso quel traguardo. Campionato UEFA, Lega di qualificazione, terzo posto. Campionato UEFA, primo turno, terzo e quarto posto. Le vedremo poi successivamente, signori. Tutte queste varie informazioni tecnico-tattiche. Il negoziazione finale stagione cade alla settiana 43. Lo stipendio annuale del giocatore viene pagato in un'unica soluzione alla fine della stagione. Settiana 44. Alla fine della stagione, fai attenzione a non perdere. Ok, va bene, va bene. Allora, signori, noi in questo momento abbiamo 10.000 fondi. Gli stipendi sono 12.270, quindi comunque dobbiamo cercare di fare punti, perché altrimenti siamo nella cacca più totale. Andiamo a vedere un attimino. Prossimo incontro, spogliatoio. Ok, dati, calendario. Oh, eccolo qua il calendario signori. Noi potremmo fare mercato dalla sedicesima giornata alla diciannovesima. Alla diciannovesima. E poi a fine stagione, dalla trentasettesima alla quarantatresima. Ricordiamoci però che dobbiamo anche avere i soldi per riuscire a non fallire. Abbiamo la coppa nel frammezzo. E niente, va bene. E siamo carichi. Trattative, giustamente, abbiamo la possibilità di cercare tutti i giocatori. Quindi se avete dei nomi, iniziate a darmeli, signori, perché dobbiamo farci la squadra da zero. Giustamente, regola e condizione. Regola e condizione. Regola e condizione cosa volevate significare, signori? Questo me lo sono perso. Mi fa fare qualche allenamento particolare? Spero di no, perché ho già esaurito i tre quarti di... Voi sapete cosa prima? E sta caricando in maniera... Cosa sta caricando? No, 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 ma tu sei pazzo, ma non se ne parla proprio. Abbandona l'allenamento, sì, sì, sì. No, ma che cazzo... Andiamo in campo, signori. Qui dobbiamo fare i soldi, dobbiamo fare i big money. Dobbiamo fare i big money. Vai in meno selezione. Conferma, salva con questo. Va bene, signori. Allora, il proprio spogliatoio. Formazione. Andiamo a vedere un attimino la nostra squadra. Allora, noi già abbiamo Amelio in Porta, Vargas, Gandoni, Malara. Ok, Malara. Vidigal, Vigiani, Pefzel e Doga. Che non sono veloci neanche per passoni. Ok. Lucarelli, Protti. Ok. Preferivo quando mi dava le statistiche con i numerini, più che col triangolo. Però va bene. Lucarelli, Protti. Poi abbiamo Pavarini in Porta, Vanigli, Fanucci, Balleri, Grauso, Ruotolo, Evangelisti, Ciaramitaro, Gambadori, Bilotti, Danielevicius, Mazzoni, Mareggini, Del Tongo, Perna, Giallombardo, Rabito, Rossetti, Colombo. Ok. Allora, intanto, signori, scusatemi, ma io gioco a quattro. Scusate, io non ci posso fare nulla, signori. Io gioco a quattro. Andiamo a giocare così, come mi avete suggerito di giocare nell'altra, nel modifica posizione. Andiamo a mettere gli esterni, al solito, un pochino più larghi e più avanti. Partiamo dalle basi di cui oramai ci fidiamo, signori. Andiamo a giocare con le basi di cui ci fidiamo. Protti lo mettiamo un pochino più indietro. E secondo me, diciamo che, diciamo che va bene così. Va bene così. Cambia giocatore. Ora dobbiamo capire un attimino, mi serve, lui è un car, infatti a me non mi serve lui. Vi dico, lo mettiamo a posto di Vigiani, che effettivamente è un... E Vigiani lo andiamo a far uscire per Balleri, che è l'unico terzino che abbiamo. Ok, Balleri, Balleri. Poi abbiamo Pefzel, che è un terzino o CF. Ok, quindi diciamo che ci può stare. Doga è un car CF. Noi che abbiamo? Qualcuno di più all'ombra. Diamo fiducia a Ciaramitaro, che è un CFCF, a posto di Pefzel. A posto di Pefzel, che è più terzino, quindi più difensivo. Ok. Passoni è un cav. Abbiamo dei cav noi. Con il quale possiamo interagire? No, va bene. E poi Lucarelli è pronti, direi che vanno bene così. Signori, questa è la nostra formazione. Speriamo che funzioni tutto. Diamo un colpo di salva, ma io salverei a prescindere, sì. Salverei a prescindere. Perché sono sceso qua sotto a prescindere? Non lo so, perché ho visto, sì, cambia. Salva lì, così già abbiamo la formazione sistemata. Questo è il primo video, ovviamente, quindi durerà di più rispetto agli altri, signori. Ma siamo pronti per scendere in campo. Giochiamo contro il Rennes. Loro hanno la cosiddetta così, sì, perfetto. Scendiamo in campo, signori. La formazione l'abbiamo sistemata. Iniziamo la partita senza paura e senza timore. Allora, io ho giocato un attimino per riprendere la mano, perché è molto diverso rispetto al PES. Caldi rispetto all'ISPRO e all'altra Master League, signori. Però, 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 merita, merita. Proviamo. Fatemi sapere nei commenti se la nuova serie vi può piacere. Guardate come sono carichi i giocatori del Livorno. Inizia una nuova avventura per il Livorno, che deve puntare a vincere tutto, signori. Ci proviamo. Va bene, mi sono rotto un attuale scato. È bella le presentazioni. Si vede, effettivamente, la differenza tra la PlayStation 2 e la PlayStation 1. Bello, salutano tutti, salutano mamma. Questa è la nostra formazione. E speriamo di fare bene. A me le importa, signori. Va bene. L'arbitro Edu De Null. Edu De Null. Va bene. Benvenuto a Edu De Null. Signori, si parte. Allora, siamo partiti, siamo partiti, siamo partiti subito a pallettoni, signori. Ciara Mitaro, ciara Mitaro, ciara Mitaro. Io devo imparare anche i nomi di tutti questi qua nuovi. No, che... Protti! Vedi che la palla la devi prendere con le gambe. Non è tanta, la devi far passare sotto le gambe. Allora, calma e sangue freddo, signori. Calma e sangue freddo. Calma e sangue freddo. Grandissimo, subito, Grandoni. Grandoni. Sono tutti in discussione, signori. Sono tutti in discussione. Grandoni. Do cazzarola, vai. Grandoni. Grandoni, vede Lucarelli, che vede l'inserimento di Passoni, che cerca subito il tiro. Guadagniamo un calcio d'angolo, subito, così. Buttala, buttala in mezzo. Vai, Passoni, buttala in mezzo. Calcio d'angolo, la palla al centro. Non c'è nessuno, però. C'è qualcuno lì sul respinta? No. No? Va il lancio lungo, va bene. Con calma, con calma. Sempre Grandoni. E c'è solo lui in campo, cazzarola? Oh, Vidigal. Finalmente uno diverso. Vidigal, Vidigal, Vidigal. Cerca Passoni. Ma Passoni non è il trequartista. Che cazzarola ci fa lì? Doga. Doga, 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 Doga per Passoni. Passoni, 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 Passoni. Supera il centro campo, Passoni, 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 Passoni. Doga, Cazzarola, vai, Passoni. Spalletta è regolare. Passoni vola a terra. La giochi lì? Qui sono più bravi a fare... Oh, ok, ok. Inquadra la porta, inquadra la... Cazzarola. Va bene, va bene, va bene, va bene. Va bene, va bene. Dai, dai, dai calma, dai calma. Dai calma, dai calma. Vai Ceramitaro, vai Ceramitaro che sei stato scelto tu per tenere... No, mamma mia, come ci hanno bruciati. Che cazzaro, mi ha cambiato il giochino, il personaggio... Ma l'avevo recuperata, sta palla. No, 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 Amelia, andò a Cazzarola, vai. Amelia, già tu che prendi troppo tutte queste decisioni da solo, non andiamo d'accordo. Signori, che cazzaro sta succedendo? Bravo, Balleri. Balleri, recupero il pallone. Balleri, 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 per Passoni. Che si fa trovare nel posto giusto, al momento giusto. Passoni, Passoni, è da solo. Passoni, Passoni, Passoni. Ma cazzaro la fai, Passoni. Merda, l'avevamo da soli. Attenzione, Vidigal, Vidigal, Vidigal. La butta dentro, Vidigal, Vidigal. Ceramitaro, attenzione, la palla è ancora lì. Buono, mi piace questo Livorno, signori. Stiamo giocando bene, stiamo giocando bene. Calma, calma. Fu così che prendemmo sette gol. Però stavamo giocando bene. Grandissimo Grandoni. Lo sposta leggermente. Luca Relli, nel cerchio di centrocampo. Lui che dovrebbe essere il nostro attaccante di punta. Il nostro Cristian Lucarelli. Di Vornese Doc. No, 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 no. Buco, terribile. Meno male. Non so chi è che si è sacrificato così. Scusatemi, che cos'era? Il suono sincronizzato. Che cazzo l'hanno fatto? Grandoni. Malera per Grandoni. Che cerca Vargas. Vargas, Vargas, Vargas. Vargas apre sulla fascia per Ciaramitaro. Ciaramitaro per Lucarelli. Lucarelli la gira per Passoni che dorme. Niente. Passoni non voleva, non vuole partecipare all'azione. Fine del primo tempo, signori. 0-0 tra Livorno e Ren. Peccato. Questa è una grande azione. Peccato. Mannaggia. Mannaggia, mannaggia, mannaggia. Continuiamo, continuiamo. Allora, diciamo che l'esordio su... L'esordio su... Su His Pro, sull'altra serie, diciamo, era stato catastrofico. Avevamo perso... No, ma non gli ha fatto niente. Ma lui che si è buttato. Che vuole partecipare alla gara di tuffi. È stato più catastrofico perché... Ho visto il giocatore a terra e ho detto che cazzo non ha la voca. Ho detto, vuoi che mi fischi il fa... Attenzione, attenzione, attenzione. Ciaramitaro. Ciaramitaro per Passoni. Passoni. Mamma mia. Gli ha tirato uno schiaffo, signori. Gli ha tirato uno schiaffo, ma Passoni si vendica subito. Cerca subito il recupero del pallone. Grandissima l'azione del Livorno. Che ci prova ancora a difendersi. No, 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 no. Oh! Mamma mia, che... Che... Che busta che ti ha fatto, come direbbero quelli bravi. Mamma mia. Brello. Sì, però dovevi andarci, zio. Quello ti ha fatto un sacrificio. No, 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 no. Signori. Signori, ci stiamo facendo un attimino scavolcare da Ren. Può essere? Stanno a fare quello che vogliono. Via sta palla. Con calma. Bravissimo Doga. Che la mette a terra. Non si sa come, che cosa abbia fatto. Però, mannaggia. Passala, passala che l'hai persa. Bello così, bello così, Protti. Per Luca Relli. Che la tocca. Luca, 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 Luca. C'è la mitaro, 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 va sul fondo, cerca il traversone, Protti, che è alto un metro, una tic tac. Certo, è l'uomo giusto sul quale crossare questo pallone. Mannaggia, 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 mannaggia. Vidigal, Vidigal, Vidigal. Buono Protti, buono Protti. Annaggia. Grandissimo, attenzione. Doga, 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 dal nulla. Che cos'era? Doga, ma che cazzo? Ma che c'hanno i piedi storti questi? Hanno fatto una sostituzione. Attenzione, è uscito la LAN. Siamo al 73, forse potevamo cambiare anche qualche cosa noi. Allora, c'è da valutare Protti, signori, perché Protti è alto veramente, un metro e una tic tac. Per quanto sia bravo, tecnico... Lo manda al bar, Protti, in tutto questo. Si sente già offeso nell'orgoglio. Ma che cazzo, rola di passaggio in Protti. Ah, è pure Fall. Era pure Giallo. Aspetta, aspetta. Facciamo delle sostituzioni, cosa che non facciamo mai. Allora, facciamo uscire Protti. E facciamo entrare... Mamma mia, che scarso. Daniel Levicius. Ti do fiducia, ti do fiducia, Daniel Levicius. Sei tu l'uomo della provvidenza. L'uomo della provvidenza, signori. Fuori Protti, dentro Daniel Levicius. Protti non la prende bene? Protti non... Poco stanco. Dieci minuti finali. Attenzione, 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 attenzione. Attenzione ancora, ancora, ancora. Attenzione a Ren. Attenzione a Ren. Ci fa il pezzo. Il pezzo. Ci ha fatto il pezzo questo qua. E levagliela. E levagliela. E levagliela. Mannaggia. Mannaggia di una mannaggia. No, 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 no. La beffa, la beffa adesso no. La beffa adesso no. No. L'hanno lisciata in tre, signori. Ma stiamo scherzando? La lisciata del portiere e tre difensori hanno lisciato sto pallone. Ma di che cazzo la stiamo parlando? Urgono interventi difensivi. Attenzione. Doga, 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 Doga. Vede Lucarelli. Vede Lucarelli. Lucarelli. Cosa ci siamo mangiati, signori? Cosa ci siamo mangiati? Cosa ci siamo mangiati? Attenzione ancora, Lucarelli si gira. Lucarelli. Cristian. 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 Lucarelli. Dai così, signori. Se l'è mangiato prima, aveva la pancia piena e il secondo l'ha buttato nel sette. Bellissimo. Vantaggio del Livorno allo scadere. Porca miseria. Bello, bello, bello. Si è riempito il portiere niente. Ha dormito completamente. Bravissimo. Non so chi ti sia. Pefsel forse o Vidigalle. Che tra l'altro aveva preso un fallo bruttissimo. Lucarelli. Sbam. Di pura fortuna. Per fortuna il primo se l'era mangiato. Quanto meno si è saziato col primo tiro. Si è saziato. Facciamo anche noi delle sostituzioni, signori. Anche perché... Chi possiamo far entrare? Evangelisti. Evangelisti per Vidigal. Va bene. E poi Passoni fuori per... Per Bilotti. Va bene così. Si, facciamo delle sostituzioni che sono... Neanche il tempo di battere. Non è entrato nessuno, signori. Bello così. Ci portiamo a casa i primi tre punti, signori. Obiettivo promozione. Obiettivo promozione per salire subito in Serie A. Dai così. Dai così, signori. Tre punti importantissimi. Bruciamo subito così... Esordio col fuoco. Esordio col fuoco. Si, si, si. Scongeliamo il ghiaccio. Bruciamo il ghiaccio. Ma cazzo la si dice? Non mi ricordo. Però va bene. Va bene, signori. Tre punti importanti. Andiamo al menu principale, Master. Per uno in generale. Lui salva in automatico. Bravo. Tu salva sempre. Non ti preoccupare. Non ti crea problemi, ma guarda e passa. Anzi, non ti crea problemi, ma guarda e salva. Oh, abbiamo preso subito 800 punti base per la vittoria. 20 punti bonus. Quindi siamo a 10.820. Buono. Ok, ogni fine partita, signori, i giocatori, che sono, diciamo, ancora giovani, vanno salendo di prospettiva. E questa è tanta roba. C'è qualcun altro qui sotto che salita? Assolutamente no. Ma è del tongo. Del tongo? Da-na-tong ce che pare che tu che il tongo. Tong ce che pare che tu che il tongo. Niente, va bene così, signori. Solamente loro sono saliti. Noi però ci siamo portati a casa a tre punticini che come primo episodio non va assolutamente male. Lui salva sempre, salva, salva Tutti i video saranno con salvataggi continui Però va bene, però va bene Classifica, rendimento, piazzamento Lucarelli, quinto posto con 7 punti, ok Vidigal, miglior centrocampista, secondo con 7, buono Valeria Grandoni, difensori con 7, buono Amelia, secondo con 6,50 Tanta roba, tanta roba Ok signori, io direi che come primo episodio può andare più che bene Volevo semplicemente capire dove si vede la classifica A stanza di primate, informazioni sulle partite di campionato Informazioni sulle coppe, spogliatoio Da cazzola si vede la classifica? Classifica, ah ok Siamo, ok, siamo secondi praticamente No, siamo primi, col Siviglia Il Den Bosch e il Grass Fash Che non so che cazzola di squadra siano E poi c'è anche il Getafe, il Mainz, il Reign e il Nurberg Va bene, va bene signori Detto questo, detto questo, siamo contenti Siamo contenti Detto questo signore, io vi ringrazio per aver guardato questo video Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i studenti e per il supporto Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento Bella raga, ciao! Ciao!